Buongiorno, bentrovati appuntamento. Il primo della settimana con Mattino 6, lunedì 30 ottobre 2017, apriamo la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine dei giornali abruzzesi, partiamo come di consueto con il centro, l'edizione di Pescara, il titolo principale riguarda il capoluogo adriatico, Pescara capitale della ristorazione, questo il titolo di apertura. La città è terza in Italia per numero di locali ma il commercio al dettaglio resta al palo. Questo è il titolo di apertura, andiamo a centropagina dove si parla di sport, si parla del Pescara, vedete la foto in primo piano di Zeman, Pescara che non può più sbagliare, squadra senza identità. Per Zeman l'ora delle scelte, venerdì vi ricordo l'anticipo molto delicato per i biancazzurri allo stadio adriatico con la capolista Palermo. Vediamo anche le notizie nelle cronache, emergenza fondali, dragaggio del porto, oggi l'avvio dei lavori a Pescara e poi Cepagatti, cronaca, botte minacce alla moglie, deve lasciare casa, operazione dei carabinieri della compagnia di Pescara, sempre a Pescara, Marco D'Amore per due sere al Teatro Massimo. Vediamo altri due titoli che riguardano invece la cronaca regionale, bonifica bussi, i veleni vanno rimossi, dice Franco Gerardini, dirigente del settore ambiente della regione. Poi verso il voto il Rosartellum mette KO, il PD abruzzese, questi titoli che riguardano l'edizione di Pescara del centro, andiamo a vedere l'edizione che riguarda Chieti Lanciano Vasto, la ASL non paga tirocini bloccati, questo è il titolo di apertura, Chieti Università, professori verso lo sciopero e studenti in allarme. L'azienda, ecco 350 mila euro. Centropagina anche in questo caso la fotonotizia che riguarda lo sport, in questo caso la Bastese che vola al secondo posto dopo la vittoria per 4 a 0 nel derby con il Nero Stellati. Andiamo a vedere altri titoli, nelle cronache Chieti, raid nel centro d'ama, bruciato un furgone sempre a Chieti, il congresso PD rielegge Filippo Di Giovanni, segretario Lanciano, cantiere fermo al terminal bus, lavori revocati. Andiamo a vedere l'edizione di Teramo del centro, l'apertura che riguarda due gravi incidenti sulla strada statale 150, donna muore in uno scontro e in coma un giovane migrante travolto sulla sua bici. E poi a Silvi, ladri inseguiti sulla statale, gli agenti sparano in aria. E poi a Teramo, a Natale i piani delle scuone da adeguare, poi il basket, dunque lo sport, Roseto senza scampo, anche a Forlì resta al palo la formazione rosetana senza aver conquistato nessuna vittoria in campionato. Invece il Teramo, Mister X, pari in rimonta a Bergamo con l'Albino Leffe e la sesta X stagionale per i biancorossi, da evidenziare anche la vittoria del Giulianova a Chieti nel campionato di eccellenza nel big match della giornata di ieri. Giulianova che dunque vola in classifica sempre più sola al comando, la formazione giallorossa. Chiudiamo con l'edizione per quanto riguarda le prime pagine del centro di L'Aquila Vezzano sul Mona. Alla ASL mancano 530 dipendenti, super lavoro negli ospedali della provincia, niente assunzioni a causa dei tetti di spesa. Lo sport, L'Aquila Vezzano in festa, le due cugine vincono. L'Aquila batte tra l'altro in inferiorità numerica il San Nicolo. L'Avezzano quarto successo di fila, supera il Castelfidardo e dunque c'è grande entusiasmo anche perché mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale del campionato di Serie D, ma domenica prossima ci sarà il derby allo Stadio dei Marsi tra Avezzano e L'Aquila. Dunque è già partito come si suol dire il conto alla rovescia. Bene anche L'Aquila rugby, Nero Verdi altro show, ora L'Avetta è a un punto. Vediamo le altre notizie della cronaca. L'Aquila ha scelto il bando per il nuovo direttore del teatro stabile abruzzese e poi tagliacozzo su WhatsApp la lista dei clienti della droga. Si parla di un'operazione portata a termine dalle forze dell'ordine nelle ultime ore nella Marsica. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero, azienda nel mirino dei piromani. Vedete questo titolo a centro pagina nella parte alta. Chieti ha tentato incendiario nella notte di sabato contro un automezzo e gli uffici della Melplast nel centro commerciale d'Ama si segue la pista dell'intimidazione. Vediamo altre notizie di cronaca. Pescara, maltratta la moglie, allontanato da casa, marito padrone. Poi il giallo della bonifica, il titolo l'approfondimento di spalla della prima pagina del messaggero. Bussi e i soldi spariti, accuse anche dalla Gerardis. Vediamo altri titoli, ci spostiamo nella parte centrale della pagina. Zona franca urbana, Pescara, la spunta, sbloccato il decreto. Poi l'Aquila, polemica per le case popolari e migranti, stranieri in testa nelle graduatorie. La città si divide. Poi Teramo, sorpresa, lo sport costa di più di scuole e asili. In basso Avezzano, strade e ferrovia, lira dei pendolari. In alto invece ci sono i richiami delle pagine sportive che sono all'interno dell'inserto del giornale Oggi in Edicola. Serie B, Pescara in crisi, la squadra in piena fase di involuzione. Abbiamo visto che anche dalla pagina del centro si parla del momento difficile dei biancazzurri. Per Zeman è arrivato il momento delle scelte. Poi Serie C, Teramo, ancora un pareggio molto utile per la salvezza 1-1 ieri all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo con l'Albinola F. Poi Serie D, derby, l'Aquila e Vastese vincenti, tris di successi per gli abruzzesi. Come sempre nella seconda parte parleremo ampiamente di sport. Andremo a vedere tutti i servizi delle gare giocate ieri partendo dalla Serie C per passare poi alla Serie D e per chiudere con il derby giocato all'Angelini tra Chieti e Giuliano Amma. Andiamo per ordine, l'edicola nazionale partiamo dal Corriere della Sera. Renzi, apertura sulle alleanze per MDP e Tardi e Salvini dopo il voto potrei chiamare Grillo. E poi emergenza in Piemonte, evacuate centinaia di persone, roghi e fumo, fuga dalla Valsusa. Vedete questa immagine con questa collina che è completamente incendiata, davvero difficile la situazione in Piemonte. Repubblica, Corea, la mediazione di Papa Francesco, vertice in Vaticano con ONU e Nato. Anche su Repubblica il titolo con corredo di foto che riguarda la difficile situazione incendi in Valsusa che brucia da giorni, roghi anche in Lombardia, un autunno mai così povero di precipitazioni e dunque problemi anche quando l'estate ormai ha le spalle. Siamo al messaggero, alleanze, la mossa di Renzi, il leader PD, noi perno del governo, basta veti e voto a marzo, ipotesi primarie di coalizione. E poi ci spostiamo in Spagna, scontro sull'indipendenza, il presidente catalano rischia l'arresto, Barcellona marea unionista in piazza, Puindemon pensa all'asilo in Belgio. E poi siamo a Libero, il marciume di Banca Italia, titola il giornale diretto da Vittorio Feltri, perfino Casini si è accorto che qualcosa non va, scrive il giornale Libero. Il tempo, finti permessi ai clandestini, ecco la fabbrica degli italiani, c'è questa inchiesta che riguarda gli attestati per ottenere la residenza venduti a 650 euro, le periferie impoverite, terra di conquista per il nuovo business. E poi vedete a centro pagina il richiamo di sport che riguarda la Lazio, la Lazio che batte il Benevento in trasferta al Vigorito per 5-1. Benevento ancora senza punti, record negativo di tutti i campionati di Serie A, nonostante il cambio di panchina. Siamo al Fatto Quotidiano, Renzi fa il bullo con tutti, scrive il Fatto, prima uno sgarbo a Gentiloni sullo Ius Soli, poi la minaccia a Franceschini. Siamo alla stampa di Torino, in Val di Susa l'inferno degli sfollati, il vento alimenta nuovi incendi, chiusa l'autostrada del Fregius, evacuata una casa di riposo, si aggrava la situazione in Piemonte, l'ex direttore della forestale dice, è stato un errore sopprimere il corpo, e non lo dice solo l'ex direttore della forestale. Proseguiamo con il sole 24 ore, pensioni, cumulo gratuito per 400 mila, professionisti, numeri già alti per medici, geometri e farmacisti. Siamo al giornale, Renzi sceglie i comunisti, svolta a sinistra, il leader del PD apre ai cespugli di Bersani e compagni, e Grillo fa il furbo, nessun caso appendino. Siamo al mattino di Napoli, alleanze, le condizioni di Renzi, vedete a centro pagina, si parla di politica, non metto veti, ma i voti contano di più, il PD perno del centro-sinistra, questo il succo del discorso conclusivo del segretario nazionale del PD alla conferenza di Napoli, MDP chiude, un discorotto, serve un cambio radicale. E siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, PD, Renzi fa il gentiloni, nessun veto è più importante dei voti, dobbiamo fare squadra, ha detto ieri a Napoli Renzi. Siamo al secolo XIX, Toti, autonomia sui soldi dei porti Liguri, il governatore della Liguria dice trattativa con Roma. E poi un richiamo sullo sport, in chiave anche pescarese, perché vedete in primo piano nella foto l'ex biancazzurro Lucas Torrera esulta, gran gol ieri per il giocatore che fino a due stagioni fa giocava nel Pescara, una sua punizione è stata tra le giocate più belle della giornata di ieri, Sampdoria allenata dall'abruzzese Marco Giampaolo che batte il record di vittorie di fila in casa, supera il Chievo per 4-1 e si attesta nelle zone alte della classifica e se in casa blucerchiata si ride, in casa genoana si piange perché il Genoa è stato sconfitto a Ferrara dalla spalla e ora il tecnico Juric è in bilico. Il Gazzettino di Venezia, PD, Renzi apre alle alleanze, il segretario chiude la tre giorni, il partito dice perno del governo noi veti contano i voti, il secolo è allarme povertà, vedete la foto del secolo d'Italia con un'immagine delle stazioni del nostro paese, tante persone senza tetto trovano riparo e rifugio in stazioni, aeroporti proprio per ripararsi anche dai primi freddi della stagione. Questo era l'ultimo quotidiano preso in esame per quanto riguarda l'edicola nazionale possiamo tornare ai quotidiani di casa nostra per ripartire dal quotidiano il centro per andare a pagina 2 e vedere l'approfondimento che riguarda la nostra regione in questo caso si parla di ambiente, bonifica di bus, il piano Edison vedete il titolo a tutta pagina di apertura, progetto da rivedere i veleni vanno rimossi, la posizione della regione sulla proposta della società parla il dirigente del settore ambiente della regione Gerardini domani ci sarà la riunione tecnica al ministero dell'ambiente convocata dalla funzionaria Laura D'Aprile e in basso è polemica sui fondi regionali spostati sulle strade provinciali e poi verso le elezioni la legge elettorale mette K.O.I.L.P.D. nei collegi abruzzesi la simulazione di Ipsos sull'uninominale preoccupa i democratici ma con i candidati e la coalizione le cose cambieranno in basso Ipadriatic la di Salvatore incontra la Corte dei Conti si parla della verifica sull'attuazione del programma Ipadriatic saltiamo ovviamente le pagine di cronaca nazionale ed internazionale abbiamo visto gli argomenti principali nei titoli dei quotidiani italiani oggi in edicola siamo alla cronaca di Pescara sempre dal centro ritroviamo il titolo di apertura la città che riparte boom di locali e ristoranti Pescara da primato nazionale secondo movi imprese e il terzo comune d'Italia pensate come il numero di attività legate al food rispetto a dieci anni fa sono 602 in più ma non bastano per salvare l'intero settore dunque una città quella di Pescara sempre più dedica al commercio e per Natale mercati aperti fino a sera oggi l'incontro tra comune, operatori e associazioni per stilare gli eventi delle prossime festività Pescara Vecchia, movi dal centro storico aprono sei nuove attività parla Christian Summa, presidente del consorzio Pescara Vecchia stiamo tornando agli stessi livelli del 2010 ora puntiamo sui Deor nessuna contrapposizione con la zona del mercato coperto siamo solo diversi e dunque a Pescara si riscopre anche il centro storico riparte il dragaggio del porto questa è un'altra notizia importante emergenza rientrata in extremis dopo l'insabbiamento ma non è una novità delle ultime ore riunione lampo dopo l'ordinanza della Capitaneria sui rischi della navigazione per i fondali insabbiati con una procedura d'urgenza la regione recupera 300 mila euro e consente l'avvio dei lavori da oggi lavori di dragaggio al porto di Pescara la cronaca sorpreso a spacciare arrestato a cappelle padre nei guai per aver dato al figlio l'auto sequestrata e poi pastore tedesco a spasso sulla circonvallazione all'uscita di Pescara Colli è stato recuperato dalla guardia zofila Carmelita Bellini ed è stato salvato questo esemplare di pastore tedesco siamo ancora alla cronaca di Pescara siamo in provincia Cepagatti botte minacce alla moglie marito allontanato da casa ancora Cepagatti venditore online nei guai per truffa a Montesilvano questa notizia che riguarda il cimitero che è stato attrezzato con 10 carrozzelle per visitatori disabili anche in vista della celebrazione dei defunti del 2 novembre andiamo ancora avanti lasciamo questa pagina di Pescara e Provincia per spostarci alla pagina di Chieti Chieti Università ASL tirocini non pagati questo è il titolo di apertura i professori verso lo sciopero tutor, docenti e direttori dei corsi senza compensi da due anni oggi l'assemblea gli studenti dicono impossibile completare gli studi l'azienda ribatte e risponde pronti 350 mila euro la cronaca furgone bruciato nel centro dama Chieti incendio doloso trovata bottiglia con i residui di liquido infiammabile in basso ancora Chieti politica Filippo Di Giovanni rieletto segretario al congresso provinciale del PD mano tesa alla minoranza lavoriamo dice per la città Ortona furti nella zona di Villa Caldari i residenti chiedono le forze politiche telecamere e sicurezza siamo alla pagina dell'Aquila cronaca operazione antispaccio droga donna fermata una lista dei clienti sul gruppo Whatsapp questa operazione antispaccio che ha riguardato la Marsica in particolare la zona di Tagliacozzo e poi l'Aquila teatro stabile abruzzese nomina direttore assemblea del CDA e poi scommesse online 12 assoluzioni processo lungo 7 anni sotto accusa alcuni titolari marsicani di locali pubblici e sono arrivate queste 12 assoluzioni in basso ancora cronaca ascisce cocaina in auto un arresto l'Aquila l'indagine collegata alla morte improvvisa di un uomo di 51 anni nella sua abitazione siamo alla pagina di Teramo e Teramo della provincia sul centro strade pericolose due incidenti sulla statale 150 donna muore giovane grave non ce l'ha fatta l'anziana di Colledara ferita nello scontro di sabato al bivio di Leoniano a Canzano bicisbuca da una stradina e finisce contro una golf 21enne migrante in coma e poi ci spostiamo a Silvi perché quella di sabato notte è stata una serata come si suol dire molto calda in seguimento di due ladri con sparatoria Silvi in fuga con una BMW sul marciapiede della strada statale 16 i poliziotti esplodono due colpi di pistola in aria siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere invece le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero lo facciamo partendo da Pescara zona franca urbana ok al decreto il parlamentare del PD Fusilli ora è fatta agevolazioni fiscali per aziende e operatori sulla Tiburtina il Mise fisserà i termini per la presentazione delle domande dunque il ministero dello sviluppo economico e poi il porto insabbiato vedete anche sul messaggero peschiereccio incagliato sui materassi nella darsena del porto di Pescara ma come abbiamo visto e letto in queste ore nelle prossime ore partiranno i lavori di dragaggio al porto di Pescara arresti e denunce carabinieri in azione maltratta la moglie e marito padrone allontanato dalla casa famiglia e poi in basso cane a spasso sulla tangenziale salvato dai volontari e dalla Polstrada andiamo avanti pagina dell'Aquila del messaggero graduatore alloggi post sisma scontro sugli stranieri in testa Sant'Angelo e Rocci l'attacco prima bisogna guardare agli aquilani dicono in via Roma però funzionato l'esperimento di ecologia cittadina e poi scuola la Montessori le Montessori funzionano ora una nuova scuola primaria e poi sede unica comunale Palumbo del PD dice in realtà all'autoparco solo un pezzo il resto a Colle Maggio in basso la cronaca salvati due escursionisti dispersi sul monte camicia ieri nell'Aquilano e cronaca invece che riguarda la movida del capoluogo di regione preso spacciatore la mobile passa al setaccio la città in manette extra comunitario con cocaina siamo alla pagina che riguarda la Marsica e la Valle Peligna dunque Avezzano e Sulmona in particolare partiamo dalla Marsica trasporti le accuse dei pendolari questo è il titolo in primo piano l'incidente di sabato sulla 24 ha dimostrato ancora una volta che la Marsica non è adeguatamente collegata con Roma anche la ferrovia è fortemente criticata nonostante i recenti lavori per l'amministrazione sarà uno dei grandi problemi da risolvere un problema annoso quello dei collegamenti tra la Marsica e la capitale e poi Avezzano scommesse telematiche abusive assolti in 12 Tagliacozzo la banda suona in aula negli istituti scolastici e poi ci spostiamo in Valle Peligna a Sulmona procedura non corretta campo 78 resta al Demanio e poi sempre a Sulmona i ragazzi vanno a scuola di differenziata siamo arrivati alla pagina che riguarda Chieti sempre dalle colonne del messaggero atto intimidatorio alla Melplast furgone in fiamme attentato criminale contro la ditta di imballaggi allo scalo il titolare Enrico Terrenzio dice non ho mai ricevuto minacce e poi Ortona piano regolatore piano demaniale fermi al palo De Jure così si frena lo sviluppo l'ex assessore in calza il sindaco Castiglione per l'approvazione è tutto pronto dice per il consiglio e poi vasto cementificio punta penna scusate chieste garanzie ambientali e poi a Lanciano l'automotive arriva De Vincenti il ministro nuovi straordinari previsti alla Sevel siamo alla pagina di Teramo del messaggero impianti sportivi esternalizzati costano più di menze ed asili bacchettate dai revisori dei conti ridurre le spese per utenze e consumi e poi ancora notizie dal Teramano al Badriatico accordo per la tassa di soggiorno di spalla ci spostiamo a Giulianova da Helios scuola da ballo per diversamente abili e sempre a Giulianova oggi incontro con il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso sul destino dell'ospedale di Giulianova in basso Silvi colpi di pistola contro i ladri e poi oggi Teramo Autunum Fest tutti in piazza per Halloween siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport noi apriamo dunque anche con qualche minuto di anticipo rispetto al diciamo al consueto con lo sport partendo dai titoli e dalle prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali oggi in Edicola partiamo dalla gazzetta dello sport vedete a centropagina mattatori Sarri risponde ad Allegri e torna solo il Napoli batte il Sassuolo e torna da solo appunto in testa alla classifica i gol dei bomber decisivi per lo scudetto i bomber che sono Mertens per il Napoli e Iguain per la formazione bianconera ma c'è un altro bomber che sta facendo molto bene e immobile un'altra rete per l'ex pescarese nessuno come lui in Europa Super Lazio che passa a Benevento e a proposito allora di Serie A possiamo andare a vedere grazie al grafico della gazzetta dello sport risultati e classifica del massimo campionato in anticipo sabato Milano Juventus 0 a 2 Roma Bologna 1 a 0 ieri Benevento Lazio 1 a 5 Crotone Fiorentina 2 a 1 Napoli Sassuolo 3 a 1 Sandoria Chievo 4 a 1 Spalgeno 1 a 0 Uninese Atalanta 2 a 1 Torino Cagliari 2 a 1 questa sera 20 e 45 al 20 godi Verona Inter vedete la classifica vediamo almeno le prime posizioni Napoli 31 Juventus Lazio 28 Inter 26 Roma 24 Un'ultima notizia che riguarda dalla prima pagina della gazzetta il Milan vertice tra Mirabelli e Gattuso sale l'ipotesi Ringhio se Montella affonda siamo al Corriere dello Sport Pipita Segreto vi spieghiamo come la Juve ha ritrovato Higuain e poi Napoli 10 e gode decima vittoria decimo gol di Mertens formazione campana scatenata e poi tutto sport tutti per Mia che sta per Mijailovic Torino che sotto di un gol batte il Cagliari per 2 a 1 salva la panchina del suo allenatore poi in alto Gigi il motivatore ovvero Gigi Buffon il motivatore della Juventus che domani torna in campo in Champions possiamo tornare allora prima di fermarci per qualche istante alle pagine dello sport più che tornare passare alle pagine dello sport regionale cercasi Pescara disperatamente così titola il centro Biancazzurri in crisi di identità e mai la stessa formazione i tifosi si sfogano sui social andiamo a vedere le pagine interne che riguardano il calcio abbiamo già parlato della Serie A abbiamo visto i risultati anche la classifica per le prime posizioni invece andiamo a vedere cosa succede in casa Biancazzurra l'involuzione del Pescara un Pescara in crisi di identità il momento delle scelte 12 gare non sono bastate a Zeman per individuare l'11 titolare trasferire i suoi concetti alla squadra e venerdì all'Adriatico arriverà la capolista Palermo ieri si sono giocati due posticipi il Parma ha battuto l'Avellino per 2-0 reti di Gaudio e Insigne il Foggia è andato a fare bottino pieno sul campo della Provercelli 4-1 il finale in favore della squadra di Stroppa momento no e caccia ai responsabili e l'Adriatico diventa sempre più vuoto basti pensare che si è passati dai 12.672 tifosi presenti alla gara di apertura con il Foggia prima gara di campionato ai 7.075 spettatori per l'ultima gara di campionato ovvero quella di sabato scorso giocata allo stadio Adriatico con il Brescia andiamo a vedere anche dal messaggero come viene commentato il momento del Pescara Pescara l'ora delle scelte le ultime prestazioni hanno messo in mostra una involuzione della squadra sulla quale Zeman non riesce ad incidere Brugman venerdì una gara già decisiva e contro il Palermo arriveranno altre novità per quanto riguarda la formazione in basso motociclismo Iannone deludente tanta paura per Martolo e poi siamo al Teramo il solito Teramo specialista in rimonte sesto risultato utile consecutivo per i bianco-rossi che vanno sotto a Bergamo con l'Albino Leffe ma nel finale pareggiano con Barbuti e allora noi possiamo andare a vedere subito il primo servizio curato da Ania Cantagalli su questo 1-1 tra Albino Leffe e Teramo Assa avrà sicuramente pensato molto al pareggio di Bergamo contro l'Albino Leffe sarà ritornato con la mente ad alcune scelte iniziali all'atteggiamento di squadra soprattutto nel primo tempo e a quella capacità del Teramo di recuperare le gare che si mettono male perché le buone notizie per i bianco-rossi che domani riprenderanno gli allenamenti sono essenzialmente quel carattere che sembra ormai marchi di fabbrica ed il punto buono per muovere la classifica in ottica salvezza per il resto nelle ultime due gare in trasferta il Teramo ha perso qualcosa dal punto di vista della prestazione ma è ovviamente un buon segnale se anche nelle giornate meno belle Speranza e compagni riescono a muovere comunque la classifica il sesto risultato utile consecutivo porterà però Assa a riflettere maggiormente su alcuni aspetti il Teramo ha più o meno ormai trovato una quadratura difensiva lo stesso però non si può dire dell'attacco che a parte gol sporadici non è ancora riuscito ad incidere come si dovrebbe sia che si tratti di una squadra che lotta per la vittoria di un campionato sia che si tratti invece di salvarsi oltre a Foggia Barbuti Sumaree Bacio Terracino il Teramo aspetta soprattutto l'esplosione di Tulli e quale migliore occasione per l'ex su Tirol di provare a sbloccarsi mentalmente magari con un gol proprio contro la sua ex squadra che domenica arriverà al Bonolis ha stato dimostrato a più riprese di riporre grandi speranze in lui e sicuramente l'uscita anzitempo dal campo dopo la sostituzione di Bergamo sarà stata dettata dalla rabbia del giocatore con se stesso per la prestazione offerta per salvarsi il Teramo low cost ha bisogno che tutti a Turlo facciano il massimo per adesso bastano il carattere e quella voglia di non arrendersi mai tanto cercati inutilmente nella passata stagione poi serviranno anche i gol degli attaccanti e al 91esimo soddisfatto tutto sommato Asta abbiamo sfiorato anche il gol del colpaccio vedete dal messaggero le dichiarazioni del 91esimo del tecnico Teramano andiamo a vedere anche sul centro Teramo buon punto non perde da sei gare nelle altre partite blitzrenate a Bassano aggancio al Pordenone poi Asta promuove il diavolo grande impegno scusate bene così vedete anche la foto dei tifosi Teramani che hanno seguito la squadra anche nella lontana trasferta di Bergamo gli altri risultati Sud Tirol Vicenza 1 a 0 dunque sorpresa a Bolzano con la vittoria della formazione meranese poi Fermana Pordenone 0 a 0 Mestre Ravenna 0 a 0 Gubbio Reggiana 1 a 0 San Benedettese Fano Derby Marchigiano 0 a 0 e poi il blitz del Renate a Bassano per 2 a 0 chiudiamo il capitolo Serie C ci fermiamo per qualche istante poi torneremo in studio per parlare con il corredo delle immagini e dei servizi di Serie D di eccellenza ma anche di basket pallavolo e rugby di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 come detto possiamo aprire l'ampia pagina dedicata alla Serie D partendo da uno dei due derby della giornata di ieri quello che ha visto di fronte allo stadio a Concia dell'Aquila Gran Sasso d'Italia l'Aquila e San Nicolò l'Aquila in 10 uomini vedete il titolo si prende il derby espulso Ibe dopo 25 minuti rosso-blu segnano due gol in 6 minuti con Caffiero e Valenti e schiantano il San Nicolò al 91esimo greco vice allenatore dell'Aquila vittoria sofferta ma meritata Campanile tecnico della formazione teramana siamo stati puniti sui calci da fermo ma per Campanile inizia a scricchiolare la panchina dunque l'Aquila San Nicolò 2 a 0 andiamo a vedere il servizio curato da Daniela Rosone l'Aquila Calcio prende a calci la crisi societaria l'indomani del comunicato diffuso da squadra staff e collaboratori in cui si dà come tempo limite il 30 novembre archivia le ultime sconfitte e si impone per 2 a 0 sul San Nicolò accade tutto nel secondo tempo dopo una prima metà di partita in cui crea senza riuscire a concretizzare la prima vera azione all'ottavo Sieno si invola sulla fascia sinistra ma non c'entra la porta al tredicesimo un bel fraseggio tra Steri e Ibe che segna ma il guardaline aveva già sbandierato il fuorigioco al ventunesimo un episodio dubbio Sieno serve Marra che viene atterrato in area ma l'arbitro lascia correre al venticinquesimo l'Aquila però resta in dieci espulso Ibe con rosso diretto per una gomitata ad un avversario al trentunesimo è Dostilio a negare la gioia del gol a Sieno ma al trentaquattresimo il San Nicolò un sussurto Di Benedetto serve Cala la palla finisce alta sulla traversa al trentaseiesimo sempre San Nicolò con il colpo di testa di Di Benedetto fuori di poco e al quarantaquattresimo ancora un tentativo della squadra ospite con Mozzoni che manda al lato di poco nel secondo tempo i due tecnici operano diverse sostituzioni all'ottavo è Brenci ad avere una buona palla gol ma spara alto sulla traversa e a quest'azione risponde al decimo Di Benedetto che manda anch'esso alto al diciannovesimo ancora un episodio dubbio Valenti crea il panico nella difesa avversaria e segna ma anche qui fuori gioco sbandierato tra le vementi proteste di giocatori e pubblico locale al ventiseiesimo però arriva la prima rete rosso-blu punizione dalla sinistra di Nicolò Valenti e Caffiero in tuffo di testa tra Figgio e Dostilio è 1-0 è solo l'inizio perché al trentaduesimo l'Aquila raddoppia con una punizione di Valenti c'è spazio in questa gara anche per l'esordio di rosso-blu dell'attaccante Andrea De Iulis dopo due mesi fa il suo ingresso in campo siamo all'altro derby di giornata va stese a forza 4 Nero Stellati Capo vedete il titolo gara senza storie i biancorossi calano il poker per la quinta vittoria di fila per la formazione del tecnico Gianluca Colavitto doppietta di Viscardi poi Leonetti e Cristaldi e dunque va stese al secondo posto in classifica dopo il successo di ieri in basso vedete le interviste Colavitto non ci fermiamo dice il tecnico della formazione aragonese il direttore sportivo dei Nero Stellati Pantaleo ci abbiamo provato e noi andiamo a vedere le immagini su questa gara giocata ieri allo stadio Aragona e sono cinque cinquina di successi di fila per la vastese di Gianluca Colavitto che continua a volare arrivando al secondo posto in classifica i tifosi aragonesi giustamente sognano con Fiore e compagni ora consapevoli di poter recitare un ruolo di primo piano in un torneo molto equilibrato non è bastata invece la consueta buona volontà ai pratolani che hanno denotato i soliti limiti di tenuta difensiva mancando nel contempo anche delle buone opportunità prima di cadere sotto i colpi degli aragonesi per la squadra di casa la vittoria è stata comunque meritata e mai in discussione si comincia ricordando con un minuto di silenzio e di riflessione gli atti di antisemitismo accaduti a Roma la settimana scorsa al quinto subito vastese pericolosa con Fiore che a due passi da parente scarica sull'estremo Peligno bravo comunque a respingere il portiere ospite però non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Viscardi che sugli sviluppi di un calcio di punizione dello specialista Fiore supera l'incolpevole parente al sesto minuto subito in discesa la gara per i biancorossi grazie ad un avvio di partita di grande intensità al decimo però gli ospiti hanno una colossale occasione per pareggiare i conti ma Bruni su perfetto cross dalla destra di Conè tutto solo davanti a Camerlengo alza incredibilmente sopra la traversa gli ospiti non ci stanno e al quattordicesimo Bruni chiama Camerlengo alla prima parata della giornata con una respinta che evita la sua squadra di incassare il gol del pari al diciassettesimo ancora Nero Stellati e ancora con Bruni che questa volta di testa chiama il portiere di casa ad una parata non difficile dopo aver sprecato la squadra ospite al ventesimo subisce così il raddoppio ad opera di Viscardi che con un tiro violentissimo dalla distanza superla per la seconda volta parente realizzando la sua doppietta personale il Nero Stellati sotto di due reti accuse il colpo in campo poi non accade più nulla fino al quarantaquattresimo quando Cristaldi sul filo del fuorigioco con un tocco morbido super apparente prima dell'intervento quasi sulla linea di un difensore ospite che salva porta e risultato nella ripresa pronti via Leonetti al quarto di testa realizza il gol del 3-0 che chiude con 40 minuti di anticipo il derby dell'Aragona la squadra in casacca nera con grande apprezzabile volontà continua a giocare al sesto e l'ex avezzanese censori con una punizione dal limite a mettere di poco sopra la traversa la vastese di Colavitto controlla però il gioco senza grandi assilli e con Stivaletta arriva al quattordicesimo vicinissima al poker con la sua conclusione respinta dal portiere dei Nerostellati al diciassettesimo ghiottissimo opportunità ospite con Di Rocco che crossa in area per censori che quasi sulla linea di porta mette incredibilmente alto ma per gli ospiti gira anche male perché al ventiduesimo Nicola Fiore dopo aver superato in serie i difensori ospiti si presenta in area dove Del Gizzi lo stende sotto gli occhi di Bracaccini che indica il dischetto e con Cristaldi che spiazza dagli 11 metri parente per il poker Cristaldi manca poi il 5 a 0 al quarantesimo imitato al quarantaduesimo da De Chiara che sbaglia sotto rete al quarantasettesimo e al quarantottesimo e dunque a tempo scaduto ci provano anche i neoentrati in casa aragonese Iarocci e Colitto ma Parente dice sempre di no per la formazione di casa festa grande al novantunesimo con la testa però già alla gara del primo novembre in casa della San Giustese questa è la festa dei tifosi bianco-rossi al novantunesimo fanno festa anche i tifosi dell'Avezzano Avezzano che non si ferma la squadra bianco-verde arrivata alla quarta vittoria consecutiva e la risalita vedete anche dal titolo del messaggero continua quarto successo per i bianco-verdi successo consecutivo che battono 3-1 anche il Castelfidardo con doppietta di Pellecchia e gol di Cerone una vittoria importante per la formazione marsicana che non aveva iniziato bene questa stagione in basso il tecnico Giampaolo adesso facciamo paura dunque Avezzano che pensa in grande noi andiamo a vedere proprio il servizio sulla vittoria ottenuta ieri contro la formazione marchigiana allo Stadio dei Marsi il raccoglimento è la festa in omaggio al decennale della scomparsa di Vito Taccone campione orgoglio marsicano del ciclismo e a lui la società di Via Ferrara intitola la sala stampa dell'impianto sportivo il Castelfidardo raccoglie le forze per fare la partita in terra straniera forte del secondo posto in classifica Giampaolo disegna il 4-4-2 torna Pellecchia esterno a centro campo davanti Cerone Dos Santos strilla l'assenza di Branicchi che parte dalla panchina partenza col botto all'avezzano bastano 9 minuti per marcare il territorio Cerone in becca Dos Santos leggermente defilato sulla sinistra il brasiliano temporeggia cambia passo e rifinisce centralmente Selvaggio non riesce a smorzare il pericolo Pellecchia di Rapina infila per l'1-0 i padroni di casa stringono le marcature il Castelfidardo fatica a fare gioco al 24esimo corner Ravezzano traversone nella mischia Sbardella staccare Selvaggio si salva sull'angolo di sinistra al 27esimo è ancora il centrale di difesa da andare vicino al raddoppio palla tagliare in area avversaria deviazione di prima intenzione palla alta sopra lo specchio alla mezz'ora spaccata Lombardo è illuminare per Dos Santos che potrebbe calciare di prima ma sceglie la gancia e l'azione sfuma sull'ingenuità dei padroni di casa sulla trequarte si fa vedere il Castelfidardo botta di pigini a spiovere dalla distanza Fanti l'accompagna sul fondo il capolavoro tecnico si concretizza al 39esimo Cerone lancia col contagiri Pellecchia sulla destra all'esterno rientra sul sinistro punta l'angolino lontano e la piazza come fosse la cosa più facile del mondo dei marsi in estasi e la squadra raccoglie l'abbraccio degli spalti al minuto 42 Lombardo si mette in proprio recupera palla guadagna metri punta la porta e arriva alla conclusione la retroguardia avversaria gli nega la gioia del gol è un avezzano d'applausi e l'intervallo chiama Vagnoni alle giuste considerazioni in vista della ripresa mentre Giampaolo fa il punto e concentra l'attenzione per gestire il vantaggio nella seconda parte di gara stessi 22 al fischio di Acampora di Ercolano riparte con un altro piglio il Castelfidardo calcio di punizione dopo un minuto e mezzo Trillini di precisione col destro sul primo palo palla alta di poco un minuto dopo sugli sviluppi di un corner fa tutto bene Cerrone fino alla conclusione mani nei capelli per il giocatore romano ancora 60 secondi e Persia libera la propria metà campo innescando Dos Santos incerto selvaggio nell'uscita il brasiliano cerca la deviazione parata facile per il portiere classe 98 il 3 a 0 arriva al settimo calcio di punizione dai 35 metri Cerrone a calciare da posizione angolata conclusione diretta a rete selvaggio impreparato e allora la festa è in maschera può cominciare Vagnoni chiama il primo cambio fuori grazioso dentro Calabrese e Lavezzano però non si sazi e Dos Santos prova a mettere il suo nome sulla lista dei marcatori prima è rasoterra il veleno dal limite in corsa a sfiorare il palo poi il legno interno sulla botta nell'angolo più vicino al tredicesimo spunto di Deramo tunnel e conclusione a incrociare troppo debole e selvaggio può intervenire in presa diretta ci prova anche Persia dal limite tre minuti più tardi selvaggio coi pugni a chiudere lo specchio minuto 21 il direttore di gara punisce questo intervento di Persia con le mani e indica il dischetto Minella a calciare dagli 11 metri palla che si infila nell'angolino dove Fanti non può arrivare Giampaolo costretto a sostituire Deramo crampi per il piccolo talento classe 99 scutti nella mischia largo a centrocampo al trentatreesimo fuori anche l'autore della doppietta Pellecchia dentro il classe 97 Pollino un minuto dopo Cerone prova la giocata d'effetto scavetto dal limite con selvaggio fuori dai pali la sfera delicata si perde sul fondo applausi anche per Cerone sostituito al trentasettesimo da uno scalpitante Branicchi Di Natale è munito al trentottesimo per questa trattenuta sullo scatto di Dos Santos sul capovolgimento di fronte Fanti ad esaltarsi chiudendo lo specchio a Calabrese passerella anche per Dos Santos rilevato da Catullo saranno quattro minuti di recupero quattro minuti di gestione col passivo accorciato la reazione voluta da Vagnoni non arriverà 3 a 1 finale quarta vittoria consecutiva per la banda esplosiva di Federico Giampaolo Castelfidardo cliente scomodo domato consapevolmente ed ora avanti tutta la otto giorni che chiama gli straordinari bianco-verdi come tutta la Serie D culminerà niente meno che con lo spettacolo del derby ci sarà domenica prossima il derby tra l'Aquila e Avezzano partita inutile sottolinearlo attesissima dalle due tifoserie ma prima ci sarà il turno infrasettimanale siamo alle pagine del centro per parlare di altri due abruzzesi che possono sorridere vedete Francavilla espatria e riporta i tre punti da San Marino questo è il titolo che riguarda la formazione giallorosta botta e risposta Zerbogada poi Ervese azzecca le mosse decisivi gli ultimi minuti con l'1-2 Miciche Banegas dunque Francavilla che si conferma squadra da trasferta e il Pineto invece che ritrova il successo dopo tre pareggi di fila Gragnoli sblocca un rigore di Berardi complica le cose ma nel finale il brasiliano Farias trova il primo gol che vale la vittoria e noi per vedere quello che è successo ieri al Mariani Pavone diamo spazio alle immagini nel servizio di Roberta Di Sante dopo tre pareggi consecutivi il Pineto scaccia la maledizione dei tre punti e torna alla vittoria battendo seppur con fatica il Fabriano Cerreto del neotecnico Sauro Trillini che in settimana ha rilevato l'esonerato Fenucci leggero turnover anche in vista del turno infrasettimanale per Amaolo torna Mazzocchetti tra i pali Mariani in mediana in luogo dell'affaticato Esposito mentre in avanti parte Gragnoli Trillini al suo esordio non stravolge il modulo confermando il 4-3-3 con Berardi e Pier Gallini in appoggio a Cicino punta centrale prima del fischio d'inizio commovente ricordo per l'ex calciatore del Fabriano Cerreto Mariano Martellini scomparso 27 anni fa proprio nel corso dell'ultimo incontro tra Pineto e Fabriano primo tempo avaro di emozioni con la gara che tarda ad entrare nel vivo al dodicesimo Pezzotti prova a servire Gragnoli ma la Briola fa buona guardia su di lui dalla parte opposta al 37esimo e Berardi a sfiorare il palo con un diagonale che però termina sul fondo per vedere la prima conclusione nello specchio della porta bisogna aspettare il 38esimo quando Pier Gallini chiama al primo intervento della gara Mazzocchetti al 43esimo però alla prima vera occasione utile il Pineto sblocca la partita con Gragnoli bravo a raccogliere palla al limite dell'area e piazzare la bella conclusione a incrociare che vale l'1-0 il vantaggio biancazzurro però dura pochi minuti infatti a rientro in campo dagli spogliatoi il Fabriano Cerreto pareggia i conti il direttore di gara Robilotta sanziona con la massima punizione l'intervento in area di Pepe su Piergallini e dal dischetto Berardi spiazza Mazzocchetti per l'1-1 e al 16esimo gli ospiti potrebbero anche raddoppiare quando lo stesso attaccante marchigiano trova una bella girata sulla quale l'estremo biancazzurro mette una pezza con l'aiuto della traversa la risposta del Pineto al 25esimo quando il neo entrato Cercelluti si divora un'occasione incredibile calciando sull'esterno della rete e il preludio al nuovo vantaggio pinetese che si concretizza al 35esimo quando sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Bisegna Farias entrato ad appena 5 minuti a rilevare Gragnoli è il più veloce di tutti a ribadire in rete la respinta di Monti sul diagonale di Esposito firmando la sua prima rete in maglia biancazzurra ultima occasione del match al 45esimo per Sassaroli che servito da Piergallini chiama Mazzocchetti alla parata a terra pur soffrendo e offrendo una prestazione meno brillante rispetto alle ultime uscite il Pineto ritrova così tre punti e si prepara per la trasferta di Pescina contro i Nerostellati esordio amaro per Trillini che nonostante la buona prestazione vede incassare dalla sua squadra la settima sconfitta consecutiva e dopo l'ampia pagina della Serie D siamo al campionato regionale di eccellenza che ieri ha visto la sfida alla Guido Angelini tra le due squadre favorite per la vittoria del torneo ovvero Chieti e Real Giulianova la spuntata la formazione ospite di Piccioni che si è imposta per vedete 1-0 il gol di Lennart nella ripresa dunque Chieti Giulianova va in fuga primo tempo equilibrato all'Angelini traversa di Lalli poi Lennart è decisivo Aielli più giusto il pareggio il tecnico nero verde la vede così il presidente Teatino Trevisan giochi ancora aperti e sulla sponda opposta Piccioni non si esalta tre punti meritati ma la strada è ancora lunga è piena di insidie noi andiamo a vedere quello che è accaduto ieri nel servizio curato da Valeriano De Angelis il sostenuto vento che soffia sul versante Teatino spazza via i ricordi di un tempo quando Chieti e Giulianova fronteggiavano le blasonate compagini del calcio professionistico oggi le due abruzzesi dopo aver sanato le disfunzioni societarie ripartono dall'eccellenza regionale per tentare la risalita tifoserie organizzate festanti e colorite pronte ad esercitare il proprio ruolo pubblico numeroso con la presenza di studenti e famiglie grazie anche alla iniziativa Scuola Neroverde dirigenti ed addetti ai lavori che condividono impressioni certezze pronostici dopo un minuto di raccoglimento per condannare i recenti episodi di antisemitismo il signor Di Nosse della sezione arbitrale di Nocera Inferiore dà la viola contesa si parte con il Chieti che guadagna la fase offensiva al quinto con Lalli che si coordina per tentare di testa il colpo a rete all'ottavo balistica apertura di Catalli verso Lalli che cerca di scavalcare le stremorsini con lo stadio che si infiamma e grida al vantaggio Neroverde la squadra di Aielli gioca con efficace aggressività sorretta da ritmi intensi che mettono in difficoltà gli avversari come al quattordicesimo a seguire due minuti più tardi apprezzione in area dei padroni di casa errato rinvio di Cattenari ed il giallorosso di Paolo pregusta di infilare i teatini con una potente e precisa botta il Chieti è bravo ad allargare il gioco con maggiore velocità rispetto agli avversari ma a volte pretende di entrare in area con palla al piede e così pur se la manovra del gioco è convincente la finalizzazione a rete ne risente il Giulianova non guarda anzi sorgnona e pungente si fa sentire su calci piazzati come al trentesimo quando Tozzi Borsoi nella mischia indirizzo a rete miracolo della difesa neroverde in affanno e proteste dei teatini per un presunto contatto falloso gli ospiti tengono alta la concentrazione tattica ed il Chieti alterna cose buone ad errori che rivitalizzano i giuliesi bravi in velocità a cercare varchi nelle retrovie dei padroni di casa al trentanovesimo su calcio d'angolo Catalli tenta la sorpresa poco dopo quello che non ti aspetti intervento estremo di Cattenari che nega il vantaggio agli ospiti che insistono sulla ribattuta ma la porta teatina è stregata così come quella del Giulianova repentino capovolgimento e l'Alli sul finire del primo tempo prende in pieno la traversa nella ripresa al quarto contropiede fulmineo degli ospiti con la difesa teatina sguarnita Di Paolo si invola controlla appoggia per creare la finalizzazione al fianco di Tozzi Borsoi c'è Lennart che capitalizza il vantaggio la squadra di Aielli non subisce il contraccolpo ma non è altrettanto ispirata come nel primo tempo la compagine di Piccioni è pungente quando verticalizza il gioco e al diciassettesimo sempre in contropiede può fare ancora male con Tozzi Borsoi che sul tiro a volo trova il corpo di un avversario al ventunesimo i padroni di casa tentano di girare la barriera ma la parabola di Catalli è alta allora al ventiseesimo Aielli conferisce più energia penetrativa con l'ingresso di Cioffi al posto di Capitoli latita la manovra offensiva del Chieti che al trentatresimo si fa notare con un calcio di punizione seguito con attenzione dall'estremo Orsini vola qualche parola di troppo in campo e il signor Di Nosse rifila il rosso al nero verde Costantini in fase di riscaldamento al trentasettesimo il tenace Tozzi Borsoi contrariato per le decisioni arbitrali lascia il posto ad Aquino poco ancora c'è da vedere se non un assembramento tra calciatori sugli sviluppi di una incursione di Cioffi volano proteste parole spintoni e cartellini rossi e gialli e dopo cinque minuti di recupero il Giulianova consegna la vittoria ai propri tifosi passione e cuore non si possono fermare anche in questa tradizionale sfida dove tutti attori e spettatori dentro e fuori dal recinto di gioco si sono impegnati nella ricerca del buonsenso i giuliesi sugli scudi hanno interpretato in anticipo la festa di Halloween rifilando un tattico scherzetto ai teatini che indubbiamente hanno meritato il consolante dolcetto e siamo anche a vedere le altre partite quello che è accaduto nelle altre gare del campionato di eccellenza ritroviamo innanzitutto il titolo sulla gara di ieri dell'Angelini Giulianova colpo a Chieti e fuga più 6 dai neroverdi le altre gare come vi dicevo vediamo in basso Angolana San Buceto 1 a 1 e poi Miglianico che perde in casa per 2 a 0 con la Virtus Cupello Tonfo ancora più pesante del Penne battuto per 4 a 1 a domicilio dal Montorio 88 andiamo a vedere anche le altre partite Spoltore Paterno 3 a 0 questo era l'altro big match della giornata Tris e aggancio degli spoltoresi ai piani alti della classifica Martinsicuro la rimonta in guai a il San Salvo Martinsicuro che passa per 2 a 1 in casa della formazione San Salvese poi in basso Alba Adriatica River Chieti 1 a 1 Capistrello che batte per 3 a 2 l'Acqua e Sapone Montesilvano e Torrese che passa per 1 a 0 sul campo di Scoppito campo della Miternina lasciamo il calcio per andare a vedere anzi no andiamo a vedere pardon le gare i risultati perché no dei due gironi del campionato regionale di promozione partiamo dal Girone A Virtus Teramo Nuova Sant'Egidiese 1 a 1 Celano Cologna 3 a 0 Alba Montaurei Fontanelle 0 a 2 Morrodoro Pontevomano 1 a 2 Mosciano Luco De Marsi 3 a 1 Pucetta Piano della Lente 5 a 0 San Gregorio Mutignano 3 a 1 Santomero Palmenze Tossicia 2 a 2 e Rosetana Notaresco altra gara importante quella giocata a Roseto Rosetana Notaresco 2 a 1 andiamo a vedere il Girone B Delfino Pescara Castiglione 2 a 1 e dunque Castiglione dall'addio al primato Ortona Palombaro 4 a 0 Casal Bordino Bucchianico 3 a 1 Real Treciminiere Sulmona 1 a 1 Villa 2015 Piazzano 1 a 1 Casolana Fate Rangelini Pescara 2 a 0 Baldisangro Fossa Cesia 6 a 1 e poi Raiano Passo Cordone 1 a 0 Virtus Pratola Sportland Celano 2 a 0 Lasciamo veramente a questo punto la più che ampia pagina del calcio per andare a vedere quello che è accaduto nei campionati di volley e di basket partiamo dal volley perché c'era stato l'anticipo che non era andato bene alla formazione della Siecortona Siecortona che non è stata fortunata nella gara giocata nell'ultimo turno formazione ortonese che pensa anche al recupero di qualche giocatore importante in vista dei prossimi appuntamenti vedete dal tabellino Siecortona Tuscania qui in alto 1 a 3 il risultato parziali di 22-25 25-22 25-27 22-25 in classifica la formazione ortonese a 12 punti a metà classifica in una posizione di tutta tranquillità nel prossimo turno ci sarà la trasferta di Bergamo e il Bergamo formazione lombarda e terza in classifica con 16 punti andiamo a vedere il basket con le note amare ancora una volta per Roseto che lotta ma alla fine si schianta quinto capo in altre tante gare partita condizionata dall'assenza di oggi rimasto in panchina e dall'infortunio di Marulli Roseto che perde a Forlì per 87 a 72 in classifica vedete il Roseto è l'unica formazione ancora al palo ancora a 0 punti perché ieri c'è stata la prima vittoria di Bergamo che è passata sul parquet del Piacenza per 78 a 68 nel prossimo turno Roseto ospiterà proprio la formazione piacentina siamo alle gare di serie B di basket nell'anticipo di sabato Ortona che era stata battuta sul campo del Nardò perde ancora una volta in casa al palelettra l'amatori Pescara superata per 72 a 68 dal Porto Sant'Elpidio Teramo La Grande col paccio a Cerignola 75 a 68 per la formazione allenata da Piero Bianchi andiamo nella prossima pagina per vedere anche cosa hanno fatto le altre abruzzesi il Campli che si è riscattato e ha battuto al palo a Borgognoni il Fabriano per 85 ad 81 Giulianova frenata in casa con la sconfitta con Senigallia per 84 a 75 e poi siamo al Rugby l'Aquila centra il Poker Poker di Vittorie e vola ad un punto dalla vetta l'Aquila che ha battuto il Benevento per 56 a 3 è andata bene anche al Gran Sasso l'Aquila l'altra formazione aquilana vittoria per 17 a 6 con il Rugby Perugia vediamo in classifica come detto l'Aquila ad un punto dalla vetta Cavalieri Prato 16 l'Aquila 15 Benevento e Primavera Roma 11 Perugia 10 Gran Sasso 9 ricordiamo che l'Aquila è penalizzata di 4 punti lo leggiamo qui dalla classifica il prossimo turno si tornerà a giocare il 5 novembre con il big match della giornata proprio tra le prime due della classifica ovvero Cavalieri Prato l'Aquila per il Gran Sasso gara Casalinga con il Benevento direi che siamo giunti al termine con il Rugby di questo appuntamento il primo della settimana con Mattino 6 un'ampia pagina sportiva come sempre Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio come sempre voi per la cortese attenzione vi rinnovo l'appuntamento alle 14 per la prima edizione del TG6 grazie e buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti